Buongiorno, ieri era per agosto, oggi è 16, il Cervino ha la sua leggera nuvoletta sulla cilina, ecco qua il ghiacciaio, anche qui c'è un po' di nuvoletta. Bene, oggi si potrebbe andare sul Cervino, a piedi, facciamo un giretto sul Cervino, ma si va, però dopo è venire giù che è un bel salto, buona giornata.